Aziende sempre più attente ai temi della diversità e dell'inclusione, un focus che è cresciuto significativamente negli ultimi anni ed è destinato ad aumentare nel prossimo triennio. È questa la fotografia che emerge da una ricerca Ipsos presentata in occasione dell'avvio della quarta edizione della Four Weeks for Inclusion, campagna ideata e promossa da Team, a cui hanno aderito 400 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profit, con l'obiettivo di favorire la cultura dell'inclusione e del diritto individuale alla diversità fuori e dentro le aziende. Intanto io sostengo da sempre questa partnership tra istituzioni, mondo del terzo settore, privato e privato sociale, perciò iniziative come quella di oggi che è promossa dalla Team come tante altre che vengono promosse nel nostro territorio sono fondamentali per rafforzare questo legame, questo modo di lavorare insieme. Tra l'altro io sono convinta che questo sia l'unico modo per lavorare bene per il futuro, per portare avanti progetti significativi, perché credo che il salto di qualità lo dobbiamo fare per forza insieme. Istituzioni, mondo del terzo settore che già ci sta lavorando tanto, mondo del privato e singoli cittadini. Secondo la ricerca Ipsos, per oltre l'85% delle imprese intervistate l'attenzione alle politiche di diversità e inclusione accelererà nei prossimi anni, grazie anche all'adozione crescente di politiche aziendali orientate all'inclusione. Lo studio evidenzia inoltre che il 60% delle aziende partner della Four Weeks for Inclusion già realizza da diversi anni iniziative specifiche in questa direzione, riscuotendo il favore dei dipendenti. Team ha preso l'iniziativa di costituire questa rete di aziende, però a questo punto il progetto veramente include, è il caso di dirlo, moltissime aziende che si stanno impegnando nell'includere nella loro organizzazione chiunque abbia una diversità di qualche tipo, perché tutte queste aziende sono fermamente convinte che convenga farlo, perché sviluppando i talenti straordinari che chiunque abbia una disabilità, una diversità, può sviluppare per il bene dell'azienda, perché le aziende moderne devono essere innovative e l'innovazione può scaturire soltanto da questi talenti.